Allora, come sta la nostra Lavinia? Tutto sommato bene. Ma allora com'è che non reagisce questa benedetta ragazza? Non puoi indovinare perché. Non mi dire che è ancora con quella storia. Ancora fissata per l'una. Senti signorina, dobbiamo finirla con questa fissa sul cagnolino. E non se ne può più. Questi puzzano. E poi sono pieni di batteri e c'hanno anche dei parassiti. Non si è mai visto un cane entrare in un ospedale. Fino ad oggi. La compagnia del tuo cucciolo. La cura più bella. Animali da compagnia in ospedale? Da oggi in Lombardia si può. Speriamo presto in tutta Italia.